buon tempo volo il gas e comincio a spingere per fare buon giorno cari youtubers eccoci qua sulla autostrada che porta verso Piacenza dove questo weekend parteciperò a due giorni presso la True Adventure Riding School di Honda per imparare come si fa andare fuori strada un'infarinatura già ce l'ho ho già fatto un altro corsetto Ino un po' di fai da te e adesso aggiungiamo quest'altro tassello visto che di ruota da sellato si parla aspetta 250 km più o meno è venerdì sera tempo è nuvolo ma non previsioni non danno pioggia compenso il cartello dava nebbia e banchi sul passo per Bologna e staremo a vedere comunque partire è la cosa più importante e poi si guarda a manca e piano quindi siccome l'autostrada non è certo la cosa più emozionante da guardare in un video direi che ci salutiamo qui per ora ci rivediamo all'inizio del corso buongiorno vediamo se abbiamo trovato il posto giusto sì direi di sì sotto la mezza spera ne prendete uno da seduti e ci fate girare sopra la caviglia e dopo due ore di teoria faticosissima cominciamo a girare primo gruppo in uscita si libera lo spazio per noi e dopo a girare lo spazio per noi Grazie 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 Lasciatela andare sto moto Bravissimo Grazie 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 Buongiorno voglio la puttana un giobito un giobito buongiorno le 9.20 con la luce delle 10.20 il secondo giorno ci stiamo muovendo tutti in colonna per andare a fare un bel giro e mettere in pratica gli insegnamenti del primo giorno la luce delle 10.30 con la luce delle 10.30 la luce delle 10.30 con la luce delle 10.30 la luce delle 10.30 con la luce delle 10.30 della serie se si dice di non fermarsi andare piglia rami poi tutti fermi dietro il ragazzo di rami ti tampona allora ari biiip Grazie a tutti 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 Grazie a tutti